Salve agli studenti e a tutta l'Università di Pisa, dopo domani presentiamo il film Fino a qui tutto bene al Festival Internazionale del Cinema di Roma e volevamo condividere un po' di questo orgoglio anche con voi, visto che tutto è partito con le interviste, il video L'Uva Migliore che abbiamo girato due anni fa nell'Ateneo Pisano, da quelle interviste, da quei racconti, aneddoti che ci hanno fatto gli studenti sono nate le storie, il supporto narrativo del film ma anche e soprattutto ci hanno trasmesso una sorta di coraggio, di voglia di non arrendersi di fronte alle difficoltà infatti noi ci siamo buttati in questa impresa un po' folle di produrre un film vero, anche se in maniera un po' garibaldina e indipendente e però qualche soddisfazione ce la stiamo togliendo, siamo stati appunto selezionati al Festival di Roma abbiamo trovato un distributore, il film uscirà il 29 gennaio nelle sale italiane e ovviamente avremo anche a Pisa, faremo un incontro all'università, ci sarà una prima pisana nel cinema dove uscirà il film e che dire, siamo molto contenti e direi fino a qui tutto bene